Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di un libro bello. So che da un po' che non faccio recensioni trash, ma veramente ragazzi non avete idea di quanti neuroni si sprecano in una lettura brutta. Sicuramente è più densa, più complessa di una lettura bella. E siccome al momento voglio dedicarmi a qualche lettura che possa, diciamo, arricchire il mio intelletto, mettiamola così, non sono ancora in vena di letture spudolatamente trash, quindi però ne ho lì da fare, lo sapete bene, che ho lì dei libri in code trash e che leggerò sicuramente. Ma in questo momento voglio concentrarmi su letture che mi entusiasmano, anche perché ho ben 3-4 libri anche di là che sto leggendo contemporaneamente, quindi sto sclerando. Ma oggi voglio parlare di un libro che ho appena terminato e che ho adorato alla follia e sto parlando di brevi interviste con uomini schifosi di David Foster Wallace. Allora, diffidate, diffidate di tutti gli hipster wannabe che dicono che David Foster Wallace è un autore, che ti divori, che è un autore che non riesce a fare a meno, cioè in realtà è vero, però diffidate perché David Foster Wallace è uno degli autori più di sfida che io abbia mai letto. È proprio svenante, ma nel senso positivo del termine, nel senso che è vero che ti viene voglia di leggerti tutto. Infatti io solo questo mese mi sono imbattuto in tre sue opere. Una la sto leggendo adesso. Quella che sto leggendo adesso è Verso l'Occidente, l'impero dirige il suo corso. Quello che ho già terminato prima di questo è La ragazza dei capelli strani, che è una raccolta di racconti altalenante, ma sempre su alti livelli. Il mio primo approccio con Wallace, però, è stato Questa è l'acqua, che è un'altra raccolta che mi ricordo di aver letto, che mi aveva spremuto in un modo incomprensibile, ma che alla fine del libro, alla fine della lettura, mi ha devastato totalmente. E Wallace è così, perché Wallace col cavolo che è semplice, col cavolo che è accessibile, Wallace proprio ti svena, ti distrugge, ma sia a livello emotivo che proprio a livello di sinapsi, perché è troppo complesso. È talmente complesso che a tratti la sua scrittura, meravigliosa, sembra pretenziosa in un modo allucinante, cioè proprio pretenziosissima, non è spontanea, ma secondo me ci giocava anche con quello, ci giocava sull'essere volutamente complesso per avere questo mood psicotico, schizzoide, fuori controllo, che è un po' anche il fulcro di certi suoi racconti, gli psicofarmaci, i deliri psicotici, ma tra i tre libri che ho già terminato di Wallace, di cui voglio recuperarmi tutto e non voglio fare, l'intellettualoide che dice, oh, Infinite Jest, perché Infinite Jest è vero, lo voglio leggere tantissimo, ma di certo sarà uno degli ultimi di Wallace a cui mi dedicherò, perché mi fa paura, però lo leggerò e sono sicuro che mi piacerà da matti, perché di Wallace non ho ancora letto niente che sia sulla soglia del carino o sul mediocre, sul mediocre assolutamente no, ma sul carino no. Sono sempre livelli molto molto alti, ma è una lettura di livelli molto molto alti che ti accorgi alla fine che ha livelli molto molto alti. Ci sono durante la lettura dei momenti in cui dici, cazzo, che figata, però è talmente faticoso, talmente disturbante per i neuroni, per l'emotività, che durante la lettura non te ne rendi conto, e quando finisce che ti rendi conto che ti ha devastato a livelli estremamente positivi. Tra i tre che ho letto, sicuramente il più bello, e che secondo me si avvicina al concetto di piccolo capolavoro, è sicuramente Brevi Interviste con Uomini Schifosi, che dovrebbe essere una raccolta di racconti, ma che è talmente omogeneo nel suo essere spezzato, che è tutto un insieme. Cioè, non ho mai letto una raccolta di racconti che è talmente omogenea, per quanto sia disorganizzata, volutamente disorganizzata, volutamente spezzata, che sembra veramente un romanzo. Cioè, non ha mai dei bassi, è sempre, viaggia sempre sulla stessa linea, tranquillo, ed è molto disorganizzato, perché sono proprio flash, sono proprio balzi d'umore. Non è una raccolta di racconti dove racconti sono, diciamo, autoconclusivi, anche perché alcuni racconti in realtà sono più lunghi, ma vengono spezzati e inframmezzati da altri racconti, di cui il principale è sicuramente quello che dà il titolo all'opera, che viene ripreso per tre volte, dove semplicemente c'è questa, ci sono queste interviste a uomini veramente schifosi, misogini, disturbati, che vengono intervistati da una ragazza, una donna, di cui però non vengono riportate le domande. Infatti le domande della protagonista, perché Wallace la definisce come eroina del romanzo, proprio questa donna di cui non sappiamo assolutamente niente, se non la sua presenza la carpiamo dalle risposte deliranti, fighissime, tra l'altro, di questi uomini schifosi, e solo attraverso una dipuntata che penso stia per, banalmente, domanda. Ma diciamo che Wallace tratta di storie veramente crude, in questo romanzo crude, anche a livello banalmente psicologico, struggenti, a certo punto, c'è un racconto stupendo che si chiama La persona depressa, che dove Wallace usa questa scrittura quasi da bugiardino delle medicine, molto scientifico, molto tecnico, molto freddo, estremamente freddo, ma che attraverso questa scrittura, proprio da matto nel manicomio, che si ripete le cose, riesce a raccontare una storia di un'umanità terribile, banalmente la storia di una paziente depressa che riesce a spingere al suicidio la sua terapeuta ed è annichilente, annichilente proprio, cioè, e poi c'è una Wallace, diciamo, che è conosciuto per giocare con la metanarrativa, con la metanarrativa, quindi sulla struttura, costruzione del romanzo, che è del racconto, del raccontare, che è derivata anche dalla nostra contemporaneità, fatta del multitasking, dei media, dei media, dalla bombardamento, di stimoli che abbiamo, lui gioca sulla struttura del racconto, è grottesco in questo suo modo di fare, soprattutto attraverso le maledette, maledette, perché io le odio, so che sono strano io, ma le odio, in generale dicono, non con lui, che con lui funzionano la grande, le maledette note a pie pagina, a me disturbano in una maniera incomprensibile, ma forse sono io l'unico al mondo, però mi dà un fastidio enorme quando sto leggendo e c'è la nota a pie pagina che ti obbliga a interrompere la lettura per andare sotto a vedere che cazzo c'è da dire di più e magari è una nota a pie pagina totalmente inutile, totalmente inutile per me, ovviamente, per altri magari non è così perché se l'hanno inserita è utile, però sul momento mi incazzo, dico, ma perché mi ha interrotto per dirmi sta cosa di cui non me ne frega assolutamente niente? Ecco, Wallace usa un frotto di note a pie pagina e sono anche lunghissime e spesso più lunghe del racconto stesso, ma a cosa servono queste note a pie pagina? In verità, io quando ho visto, quando ho visto la prima, tipo, mettiamo qua, così, questa è una nota a pie pagina, ok, lui è famoso per questo, in verità, poi della nota a pie pagina non sopporto il fatto che sono scritte in piccolino, allora devo perdere dieci decimi, però fa niente, lunghissime, io quando ho aperto a caso, la prima volta, perché, non mi ricordo se la ragazza dei capelli strani c'era qualche racconto con le note a pie pagina, perché, principalmente, è in questo che ho avuto più paura, che c'erano le note a pie pagina lunghissime, ma la cosa figa è che le note a pie pagina non servono per approfondire o per dare qualcosa in più, sono proprio, è proprio la narrazione che continua attraverso le note a pie pagina, magari da punti di vista diversi, magari approfondisce degli aspetti che sono necessari alla narrazione principale, ma che in un certo senso sono parallele alla narrazione principale, e attraverso le continue note a pie pagina che spezzano la narrazione principale e arrivano ad un altro livello di narrazione dello stesso evento, crea una confusione, riesce, non confusione, perché comunque abbastanza, lui è bravo nel creare una confusione logica, una confusione estremamente logica che affascina, che arricchisce, che mette ad una prova la concentrazione del lettore, ma che se il lettore riesce ad essere concentrato, infatti la mia idea è Wallace, leggetelo piano piano, non divoratelo, riesce ad entrare in questo sistema di pensiero che è quasi un train of thoughts, no? Un treno del pensiero che è estremamente bello ed estremamente affascinante. Questo libro da raccontare è complesso, vi dico solo leggetelo, è un manuale di perfezione della scrittura, sicuramente, lui scrive da Dio e dire che io sono, ho una mente ben poco matematica, cioè ben poco scientifica, non sono una persona estremamente razionale, certo sono razionale come tutti nella vita normale, ma non sono, non mi ritengo una mente super razionale, no? Mi ritengo più una persona, non mi ricordo mai qual è l'area del cervello, quella super scientifica e quella artistica, no, artistica, emotiva, ecco io sono quella là lì, cioè no? Quindi questa scrittura questa scrittura così scientifica, così fredda, così calcolatrice a me mette un attimo di, mi frena un attimo, però, però, quando entri nel mood veramente è devastante e alla fine della lettura io posso ritenere questo libro come uno dei più belli che ho letto ultimamente, se non il più bello del 2016 per ora, perché vabbè, tanto sono passati tre mesi, quindi non si sa se troverò altro e poi voglio leggermi tutto Wallace, cioè questo libro mi ha convinto a recuperare tutto di Wallace e lo farò perché sta diventando veramente un autore che sto adorando per quanto ci sia un rapporto quasi di amore e odio, no, odio, no, perché gli voglio un bene dell'anima, però odio per quanto mi mi fa impazzire ed è anche il bello perché penso che voglio appuntare anche a quello so di non avervi detto chissà cosa perché secondo io non sapendo anche come fare questo video io volevo consigliarvi questo libro ma è difficile da spiegare è proprio più un libro che va letto ci si prende un attimo di calma lo si legge piano piano e si lascia proprio travolgere da questo fiume in piena questa fiumana di parole meravigliose ve lo consiglio è bellissimo leggetelo un bacio a tutti e alla prossima